Dopo il grande successo dell'ultimo spettacolo con gli Oblivion davvero divertentissimo, ecco un nuovo appuntamento con la rassegna Scena Variabile a Clusone nel Teatro Monsignor Tomasini. Sabato 17 gennaio alle ore 21 ci sarà andrà in scena Rita Pelusio con Eva Diario di Una Costola. Rita Pelusio, un'attrice comica davvero fantastica, è stata più volte in televisione e nel 2006 ha vinto addirittura il premio come migliore attrice comica italiana. Dietro alla rassegna Scena Variabile c'è un gruppo di ragazzi appassionati di teatro in collaborazione con Umberto Zanoletti di Teatro Minimo che sta investendo davvero un sacco di energie per portare spettacoli del panorama nazionale di alta qualità a Clusone in Alta Valle, è un'occasione davvero unica, quest'anno stiamo puntando sul genere comico, sulla risata quindi se volete passare una serata divertente vi aspettiamo a Clusone sabato, questo sabato il 17 gennaio alle ore 21 con Rita Pelusio in Eva Diario di Una Costola.